Siamo nel fiume, stiamo cercando le scimmie, faccio orecchiamo. E qua ci vorrebbe il mio Corossi. Tenterò di fare il mio meglio. Non ci si trovano. Abbiamo già caicato un'ora. Niente monkey oggi. Ecco, sono arrivato in hotel. Allora, per le modiche cifre di 50 dollari questo hotelino. Con piscina. Adesso si fa in piscina. Allora, sei qui? Andiamo fuori dalla finestra. Allora, c'è la TV, solito. C'è il balconcino. Eh, la piscina è lì dietro, non si vede. C'è il laghetto laggiù. Sto vado a fare un giro. Allora, vediamo le foto. Ma qui è buissimo. Ma che cavolo è io? Poi sotto c'è il ristorante. Dopo vado. Che c'ho già fame. Scarichiamo le foto su iPad. Il wifi non ho guardato. Allora, vi faccio vedere la mia nuova valigia. È molto bella. Questa è la valigia. Sì, ma sicilamente non mi sono portato niente. Eh? Eh, vengo dopo. Vai te in piscina. Eh, sono con Franci, eh. Ah! Che scaldola! No, Ciuschi! Si mangia stasera. Ciuschi vuole già mangiare. Siamo io, Ciuschi e la Franci. Adesso scarico le foto, poi vi faccio vedere. Ciao! Dove la TV? Ciao a tutti! Siamo io in piscina con la Franci. La Franci non si vuole far vedere. Ve la saluto. Franci saluta! Sta facendo le immersioni. Ah, stai lì. Stai lì. Sì, stai lì. Sì, stai lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono svegliato adesso, poi c'ho orange juice, c'era una set stanotte, coffee, mettere dell'idea. Allora, vediamo un po' cosa... ah, guardate la mia maglietta che mi ha regalato qualcuno. Allora, c'è il pancake con lo sciroppo d'acero. Ovviamente bisognerebbe mettere tre con un casino di sciroppo. Allora, guardate la mia maglietta. 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 E' buono un po' di sale qua eh Il sale sul tavolo! Presto, butta il sale dietro Che film è che film è C'è qualcosa che posso farvi? No, è bene! Grazie! Viene venti volte perché vuole la mancia Sei dollari gli ho dato ieri sei a quello là eh Sei? C'è un dollaro che fanno vedere alle iene Ci diamo il bacon Patate Questi non ho capito, sembrano tipo patate Patate con la salsiccia in mezzo, non lo so Mmm, no Non è finita Salsiccia Salsiccia Mmm Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi abbiamo un biscotto. Questo è un biscotto. Con sopra... Il biscotto ci mettono sta salsina. E poi alla fine c'è questa. E poi adesso andiamo a vedere qualcosa di dolce così per... Non so, un rinforzino. Allora... Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.